Il prossimo brand nuovo di cui abbiamo recentemente acquisito la distribuzione Home Cinema Modules, quindi poltrone per le sale cinema, e vorrei lasciare parola a Mirko Casata, che è responsabile di progettazioni schermi, prodotti acustici e delle poltrone. Come anticipato da Sasha, ora parliamo di HCM, acronimo di Home Cinema Modules, azienda belga nata nel 2011, che produce e distribuisce sedute per Home Cinema. La gamma dei prodotti è composta da 5 famiglie, tutte complete di accessori, disponibili in varie finiture pelle e tessuto, e di base hanno la motorizzazione inclusa per il movimento delle gambe e della schiena. La prima famiglia di prodotto si chiama Atlas, prodotto di punta, il più venduto, il più amato. Ha un'estetica semplice ed è molto apprezzata, completa di ogni opzione e accessorio. La seconda famiglia è Sirius, un altro prodotto molto venduto e apprezzato. Ha un design leggermente più ricercato, in quanto ha la possibilità di richiedere cuciture a rombi e finiture delle bordature. La terza famiglia è Regulus, è una versione vintage, un po' retro, ha una dimensione leggermente maggiorata per aumentare il comfort della seduta. Quarto prodotto, parliamo di Polaris, è un modello leggermente più compatto e più snello. È adatto molto per sale cinema con larghezze inferiori e ridotte, e questo si presta più ad adeguarlo alla planimetria. Ultimo, non per importanza, parliamo di Vega, è un prodotto che si adatta molto a persone di statura alta, in quanto ha una dimensione molto più allungata rispetto alle precedenti descritte. Ha uno schienale a forma di vasca che permette di aumentare il comfort proprio della seduta. Tutti i prodotti sono altamente personalizzabili, hanno un set di accessori e personalizzazione molto ampio. Sono disponibili in diversi colori, sia pelle che tessuto. Gli accessori variano dal tavolino, al portabicchiere, al portaoggetti. Soprattutto tutte possono essere configurate in maniera lineare o curva, in base al design richiesto da vari architetti o progettisti.